è dettagli è molto caldo Sì. Non capisco, ci avviciniamo alla montagna. Esatto. Sì. Oh! Ahia, dove eravamo arrivati? Ok. Ok. Laggiù. Non voleva proprio che qualcuno l'aprisse. Ma farsi fermare da un'anadema. Oh! 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 Un'altra rediviva Missa Mi serve tempo Usa le frecce Non mi serve tempo Non mi serve tempo Non mi serve tempo Ancora no scusa Guarda come le percelline d'India Non mi serve tempo Assista Listo! Non mi piace ciò da c'è un'altra porta ci serve qualcosa per passare no ma va c'è fattoso magari per l'ultimo tratto della montagna la posso portare io non penso per chi? lei era più importante per me cosa? nel senso che ho passato più tempo io con lei tu eri sempre a caccia ti conviene chiudere la bocca i luci sembrano malati no non c'è niente ok come faccio con due scusate non c'è niente 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 c'è niente non c'è niente e Thor non c'è niente vedi non c'è niente non c'è niente non c'è niente c'è niente non c'è niente non c'è niente ma c'è niente non 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 c'è niente ci proverò non c'è niente 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 c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente qualcuno c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente c'è niente non c'è niente non c'è niente uccidono c'è niente è la guerra un c'è niente no c'è niente più o meno aspetta come c'è niente c'è niente e il talisman non c'è niente 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 c'è niente